A Piede dell'Etna, nel comune di Misterbianco, una grande cupola segnala la Chiesa Madre dedicata a Santa Maria delle Grazie. Un antico orologio si scorge dalla piazza sulla quale si staglia la monumentale facciata. Nella parte sommitale, un'elegante parete traforata, ospita il campanone. All'interno della Chiesa, stucchi in stile neoclassico decorano i pilastri cruciformi che dividono la pianta a croce latina in tre navate. Nella navata centrale risalta un pulpito ligneo decorato in oro zecchino. Il sontuoso orgone a canne, l'altare maggiore con il telone di lino ottocentesco issato nel periodo quaresimale. Nella navata destra si possono osservare l'antico quadro delle anime del purgatorio, la statua linea del Cristo risorto e il simulacro dell'Immacolata. La cappella di Santa Maria delle Grazie accoglie l'antica statua marmoria datata al 1589. La navata sinistra, adornata dal quadro di Maria Santissima degli Ammalati, ospita l'altare e la cameretta di Sant'Antonio Abate, patrono di Mister Bianco dal 1750. Sovrasta l'altare la tela di Sant'Antonio nel deserto egiziano e accanto una lapide riporta il testo di elezione a Santo Padrono. Sempre nella navata il cereo dei maestri e quello dei pastori nell'attesa di essere usciti per la triennale Festa Ranni. Al Santissimo Sagramento è dedicato l'abside della navata. All'interno della cripta della chiesa è visitabile un suggestivo museo di arte sacra. Un alternarsi di argenti legati al culto e ricchi e pregiati paramenti liturgici accompagnano il visitatore alla scoperta di una Mister Bianco passata. Anche figa mare Femarare la silenziale Femarare la liberta gialla Anche figa mare Anche figa mare Femarare la sigla Femarare la feline Sovrasta la簡 celi Anche figa mare